Noi siamo fondamentali perché il racconto che noi facciamo non è un racconto che viene fatto in casa con pochi amici o al bar, è un racconto che milioni di utenti leggono sul giornale o vedono il servizio in televisione. Noi come giornalisti e giornaliste ci dobbiamo prendere la responsabilità rispetto a un fenomeno endemico che colpisce più di un miliardo di donne e ragazze nel mondo e che in Italia ha il 90% di sommerso, dobbiamo prenderci la responsabilità che quello che noi raccontiamo, la narrazione che noi facciamo di questo fenomeno è uno strumento di prevenzione del fenomeno stesso. Lo dico molto tranquillamente perché cambiare la cultura non è una cosa che si può fare in 4 e 4-8. La violenza maschile sulle donne ha alla sua base un problema culturale che è un problema appunto di differenza di forza rispetto a uomini e donne nella società. Quindi è un problema molto più complesso per cui abbiamo ancora donne che a parità di mansione guadagnano meno degli uomini, abbiamo ancora nelle nostre famiglie la figlia che si manda a danza e il figlio che si manda a calcio. Abbiamo ancora uomini che si mandano a fare gli ingegneri e le donne le professoresse di lettere al liceo. Quindi diciamo gli stereotipi fanno parte della nostra vita, fanno parte della nostra educazione e ogni punto in cui la cultura è un fattore portante, ecco quel punto è un punto di prevenzione. La corretta narrazione della violenza maschile sulle donne fa sì che noi diventiamo protagonisti e possiamo effettivamente non solo fare un lavoro migliore perché noi come giornalisti e giornaliste abbiamo il dovere di riportare i fatti che raccontiamo più aderenti alla realtà possibile. Quindi facciamo un buon lavoro da questo punto di vista ma anche un nodo fondamentale per questo cambiamento culturale che è descritto molto bene nella Convenzione di Istanbul per cui appunto senza questo cambiamento noi non possiamo continuare a fare leggi se poi queste leggi non vengono applicate perché il magistrato non vede che c'è la violenza e pensa che sia un conflitto di coppia perché appunto c'è questo problema culturale, è un cane che si morde la coda.